Guardi, brevemente intervengo per consegnare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Poiché questa mozione, essendo appunto condivisibile nel suo indirizzo, perché questa è un'iniziativa veramente lodevole, devo dire che anche nel municipio 11 hanno aperto un altro hub di prossimità vaccinale in un centro anziani, Amici del Sorriso, dove appunto ha trovato l'approvazione di molti anziani, perché queste sono delle iniziative lodevoli, perché le persone, anche psicologicamente le persone anziane, sapere di poter effettuare un vaccino in luoghi dove abitualmente sono stati sempre frequentati per attività ludico e creative dà maggior sicurezza e maggior affrontare questa vaccinazione in maniera più tranquilla. Però devo dire che la competenza non è di queste strutture in capo ai municipi, per cui per quanto riguarda la gestione e la competenza di queste strutture, essendo appunto in capo ai municipi, noi non possiamo entrare nel merito. E come anche diceva il consigliere Pelonzi, vi è anche da approfondire con la Regione, perché qui ci sono dei protocolli sanitari, quindi condivisibile nel merito e nell'indirizzo, però per queste problematiche che ho appunto accennato il Movimento 5 Stelle si asterrà.